bene ragazzi arrivo ok inizia la cappa io direi pronostici posso andare a cagare tanto perfetto abbiamo messo anche lo skip iniziamo ciao mirko ciao ragazzi tutto bene ma sta ancora laggando ciao frittelle dolci cos'è sta scritta così arcobaleno hanno messo delle nuove animazioni wow non pullate come non pulliamo pull rainbow ma pull rainbow cosa vuol dire li hai già trovati dai ti prego la nuova animazione da pull rainbow cazzo però iniziato bene mi piace mi piace questo anniversario magari pull rainbow vuol dire l l vai c'è vado leva le pubblicità e adesso non posso lo farò dopo la live ma che cazzo dici 8 ads adesso cazzo è 8 pubblicità non è possibile che siano 8 comunque bene bene anto ciao anto comunque la cappa ha già beccato una nuova animazione scritta rainbow e poi è tornata la solita sfiga ovviamente perché quella non può mai mancare ma vedete c'è anche la navicella di acqua adesso può apparire dietro e ma non ci spoilerate tutto vogliamo vederlo ragazzi vogliamo bere bene ma vogliamo vedere anche le cose no certo vediamo magari esce un broli incazzato qua speriamo ah lo sapevi già e appare dietro hai ragione hai ragione bravo promo martedì pulli in live parliamo insieme su ds così vediamo insieme si potrebbe anche fare se non c'è la queen no allora sì vediamo magari sì io faccio una bella compagnia ma che palle per i fa schifo legends basta cioè non mi pento di non aver giocato per tutti questi mesi proprio c'era già o no sì sì però comunque ben tornato ben tornato bentornata io sì legends è proprio una merda è vero io ho avuto il mio bel anno d'oro l'anno scorso no sì sì e basta ma lì quando ti giocavi inerente al tuo discorso di prima ma mi piaceva ero diverso ah perciò sai giochi oh hai trovato nuovo hai trovato un nuovo extreme vabbas eh cazzo mene come sono andati sti esami esami bene avremmo risultato pensa fra due settimane prima ha senso ha senso penso bene anch'io i miei madonna ragazzi siamo già alla fine del primo giro c'è questa qua quella nuova ti stai già incazzando buon pomeriggio marmok come va quando avete iniziato a pullare due secondi fa ciao chi è ciao christian ciao chris adesso adesso ho trovato solo vados extreme nuova e basso oh 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 chi sarà però oh dio aspetta ma qui c'è anche jiren c'è anche jiren qua è vero ce ne hanno separato girano solo insieme ti è piaciuto il mio video? sì adem mi è piaciuto bello sto freeze anche E piuttosto sto riprendendo Sì E andiamo Bene 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 La capissima è tornata col culo Adesso posso spendere tutto per trovare giro Ma c'è anche giro in qua ragazzi Aspetta che non ho Mi è scappato il commento di Franz Grazie Mire E piuttosto sto riprendendo su Dokkan un po' di più Su che banner mi conviene andare all in What the f... No questo è quello che c'è già però No? Sì sì no no Puttana oh Però Cazzo ti impagini Sai che Franz non sto seguendo tanto il Dokkan Ti conviene chiedere qua in chat che c'è gente più esperta Wow 6 stelle Gire in full power Fantastico Anche su Freezer Wow Che culo Sì ma che culo hai Allora Secondo me Vediamo la carta Toshi ha capito che io mi stavo scazzando Perché ragazzi è da un mese che non apro più Legend Solo apro due volte al mese E quindi ho detto Ta diamone il contentino che mai eri Adesso vediamo la carta Vediamo l'animazione Ah io non ho l'audio Lo devo tirare Tanto non è un ultra non c'è l'audio Eh boh Eh come lo vuoi Che bella Comunque è una bellissima carta Forse è la migliore Figa 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 No Sì sì Vediamo se scopriamo cosa fa Magari non fa un cazzo eh No no fa sempre qualcosa No no fa sempre qualcosa Fui figurati un Oh Wow Bella 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 Bravi 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 Bene Bellissimo Adesso facciamo giusto la free Adesso facciamo giusto la free Magari salta fuori qualcosa Direi che è come disegno il più bello adesso Sì Devi trascinare Oh No ma non c'è Jiren qua Ah non c'è No Sì sì c'è quello giallo Ah pensavo che era anche lui un LL Ah non è LL Ah cazzo meno allora posso ancora non trovare Boh però ci sta No I'm just joking Ma chi è questa Chiave Chiave Andiamo per la free raga Raga qualcuno sa consigliare a Franz cosa fare sul doc C'era gente esperta C'era il doc ma adesso non c'è qua È vero Doctor Gigi What the Cos'è quella navicella Cos'è La navicella di Jaco Mi sa Cosa sono ste animazioni Però la scritta arcobalena era la più bella Finora La scritta arcobalena Sì poi la prima Cazzo Cosa sono ste cose Oh Ah vabbè ma trovali tutti Ma no ma chi cazzo è questo È uno nuovo anche lui Sì ma non c'è No Lui sì Cioè avrebbe preferito Jiren A questo punto Scusa ma vuoi tutti gli SP No a piedi Se me ne devi dare uno nuovo Ma vuoi VAMOS VAMOS Cazzo Che bella la vita facile raga Ma dai si è potente per te FIGA 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 Sì ma raga ma 4 SP all'inizio Ma chi li ha mai trovati 5 Cos'è COSÈ COSÈ Sì 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 È andato via Puttana raga che bello Mi mancava l'anniversario Queste emozioni Eh vai ci stai anche tu Cazzo dai Per piacere fai uno screen a questa summon Ok Cioè io non ho parole Io non ho mai visto Io non ho mai visto una pool del genere Con tutti i personaggi nuovi Tutti 2 Più Sì Il tema anche loro È vero 3 3 nuovi Hai fatto uno screen? Sì l'ho fatto Penso che il mio tempo è finito È arrivato il tempo della K Spazio ai giovani Comunque Navicella di Jaco Cioè Praticamente Con le nuove animazioni Trovi sempre Allora Navicella di Jaco Penso che Ti dà Uno nuovo Però non per forza l'LL, perché alla fine mi ricevo di tre nuovi, come fai a determinare quale? Cioè, tutti i personaggi nuovi, tutti gli SP nuovi, in una Boh, è il tuo turno adesso, prego Adesso sento la pressione io, di dimostrare qualcosa È il mio turno Come si supera una... La navicella l'ho trovata tantissime volte e mi usciva sempre il riro Che fa culo! Ah, non è detto quindi che la navicella sia Di norma la navicella porta tutte iro nella multi Ma si ha trovato... Eh? È vero? Ma quindi cosa è successo? Ah, signorina K Facciamo il ticket Lo facciamo alla fine, perché c'è un ticket Guarda questo che interessante SP garantito, ma già regalato da loro Non so se lo trovi ancora lì Va bene Vai inizio io, se no qua Raga, i pronostici ormai non c'è più un canale serio Via, chi se ne prega Andiamo La navicella è di acqua Non l'ha vista, stavo dicendo i commenti, scusami Quindi non ti aspetti Mi aspetto! Gokufreezer! Ma dai, in quella da 3 Gira il telefono, così non guarda Sì, ma raga, ma che c***o Ma ce la fai così? Ma sono loro, eh E anche... Ah no, anche lei è nuova, giusto Non sono loro? Sì No, è quella a 300 Perla! Uff, subito, sembro una pazza Godo Povero illuso Tutto bene? Stai bene? Ok, basta Godo! Poi che c***o è questa, scusami Chi è che è? Ma scusami, ma Goku e Bardak Per questa scema qua No, vabbè Sono loro! Mi aspetto Goku e Frise! Vai! Prevedo Una giornata di merda Ah, ti esce il Featured Ok Puttana, ma cos'è oggi? Ma vedi, ma quando c'è l'universale è sempre così Durante l'anno che ti fanno penare Bastardi Voi raga invece come siete andati? Eh Sto pullando con voi Sto andando di merda No No A me da dire è andata Dove? Chi? Ah, com'è andata? Raccontaci Che c***o Ogni volta se ne esce Cosa fai? Che copro? Ma tanto guarda qua Non ce la fai? Sì Sotto il tavolo Grande, grande Ricky Ricky ma davvero? Sei in cappa? Boh ci sta Beh ci sta Ma la tipa lì fa parte del team di Solo perché è buona la vuoi trovare Mirale Fa parte dell'universo di Jiren Lei? Eh ci sta cooler dai C'entra un cazzo Cosa ci stavo? I ruoli invertiti adesso qua Mondo la foto Easy easy Dai adesso Spendi un po' di gemme per favore Cioè Sto spendendo come vedi Ma cosa? Quanto è me finora? Almeno di più Almeno 3-4 giri devi fare te Poi li puoi anche trovare Un'altra Bardak No è dell'universo 2 Quello di Ribrian O sbaglio? No Forse sbaglio Io in 6 capo ho trovato tutti Trani Jiren Cazzo io vorrei Jiren di brutto Puttana te li hai tutti Mi hanno detto i vergogni No no Sono mega contenta Che schifo Non poteva andare meglio di tutti Mi giuro Puoi anche tenere per Vegito blu adesso Certo Ah si sa già che sarà Vegito blu Probabilmente Dicono tutti così E dicono che sarà il primo Ultra e l'L Cioè Le due cose insieme Però boh Ultra e l'L? Ma no ma scusa O sei uno o sei l'altro Eh dicono che forse Ma in mente Le teorie Secondo me sarà Ultra Forse boh Ci sono altre teorie su chi sia Riki Quante cc avete in totale? Io 30 Lei 13 Ne aveva No eh si adesso me ne sono rimaste 10 Si crede sia la prima Tag Ultra Ma è interessante E chi potrebbero essere? Ma è vero vediamo Lui dice già il Tag Cazzo Goku e Vegeta Goku e Kaioken Vegeta blu evo What the f Vegeta blu Che fa questo? E questo è quello che non avevo mai visto Che dicevano che c'era Però c'era già No questa non c'era Quello intendevano quando Goku perde Quando interviene Ah ok Questa è nuova Questa è nuova? È la Featured Gire 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 Mi va bene anche solo Gire Ci sta Anche solo Gire va bene Beh lo Gire Cazzo Ok quindi una questa è nuova No? Lf Metti giusto telefono per favore Cooler Ma cazzo è la maledizione del culo Oggi Del cooler Quindi vuol dire uno nuovo Comunque è un LL forse Va bene va bene 6 stelle no? Qua comunque confermi che Adesso vedrai che arrivano anche loro Non ti preoccupare Non mi voglio no Goku e Free Adesso non ti preoccupare Poi io ho trovato tutto nella Free La famosa teoria della Free Buggata Esiste Cazzo è vero Signori Gire che bello che sei Mamma mia non vedo l'ora di usarlo Vai Se avete una Free disponibile Signori Caricate il vostro ditino magico E facciamola insieme Ancora ancora Free E' veramente bella questa carta Veramente bella Comunque Vai Ricky Facciamola insieme Comunque cazzo Ale solo te potevi spendere 60.000 per Kid Bu E' un matto se Vai Se hai il tempo di farmare Vai Ricky Quest'anno si sono superati Si non è male l'anniversario quest'anno Quando mi aspettavo Giren Non è l'L C'è Però cazzo Giren Trasformabile E' da fare l'L No Perché a lui si trasforma Su full power Si Si Ah Eh cazzo Però si Un po' si Trunks animation Che cuore Grande Io non riesco a capire se Bumpa o Rottigio Non mi credi? Ma Yota di Gokuzza di nuovo Se dici Perché ogni volta ti escono Figa Cioè hai più culo di me te Manda la foto adesso Della summon Con Giren e Gokuzza vai Ok cosa fai? Vai avanti Penso proprio di sì Quante gemme hai? 29.000 Andiamo 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 E' almeno Altra talenta da spendere Ma perché tu guardi qua? No perché tu non ce la fai a non guardare secondo me Io guardo qui amore veramente Giuro Fidati di me Sono un lucky lover Che mi sono perso Ciao poche Anto Cosa ti sei perso? Andrei a vedere sul video di Youtube Mamma mia Ti sei perso Ti sei perso Una roba pazzesca E' finito il tempo Ma che devo fare? Guarda E' finito il culo raga Ti immagini che si connette qualcuno Di loro adesso? E diamo il telefono a casa Oh Sì dai facciamo una coop Così intanto faccio Aspetta che alleno loro due Ma questo Goan che cazzo è? Anche da te è uscito Guarda quanti nuovi PG Che culanda che sei Puttana a tutti Ma quanto c'è l'è in Coco Freezer? Sei? Merda Ma anche Jiren lo porta subito a 6 stelle Non ti può impare Comunque ieri nella live A quanto pare Jiren Sia Jiren che Goku Sono forti Però vediamo Non avevo dubbi Qua ti servo entrambi Ah si anche Jiren Oh la Genki Damada Super Power Beast Sì il mio culo è finito Sì il mio culo è finito Però mai mollare raga Come deve Nuova innovazione Non c'è più giocare raga Potrebbe uscire la scritta Rainbow E c'è anche la barda Academation con Guldo Super Saiyan Blue Guardi che colore sono Guldo E vai Non vedevi l'ora Comunque prima Cree c'è uscita da scritta Rainbow Tanto per Bella 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 La prima multi della K Scritta Rainbow Ma cazzo Mazzia ma C'è qualcosa che non ha Non ha abbastanza Oh devi farmare Minchia raga Non mi capitava di dover farmare da un anno Signori Questi Goku Non si possono vedere Mazzia ma ne ho un po Ah ma erano queste qua Di merda C'è qualcuno che per caso Ha speso i miliardi E non li ha trovati Attenzione Goku Blue Sì sì Praticamente la prima multi Però stava laggando un po Perciò spero che ce l'ha presa Cosa? La tua multi Rainbow Scritta Rainbow Cos'è sto Sam? Eh Sam aspetta un attimo che Alliene i personaggi Eccetera E poi Sì comunque poi invita te Per favore Qua dovrebbero mettere una roba tipo Rifai no? Riallena Sì Bravo Chiamatoshi Dopo gli scrivo un messaggio Signori Un'altra free Tirate fuori il bucio di culo E trasmettiamoci l'energia Ho già Ho già un coso qua La free Bro è la multi che ti ho mandato Ah ok ok Non mi ero accorto fosse la 500 Buttana che culo bro Oh che cappa Sai che hanno aggiunto le artsy boost Sai cos'è? Ti rivedete che ho detto che potrei potenziare Ah si le carte Eh vi ho detto Non giocavo da un po' raga Oh non sta girando Due cazzo sono loro due bro Cos'è? Il gioco te li ha tolti Raga ma che schifo Dei mettere i due colori purple e blu Sì perché hanno due colori Esatto Sì questa cosa è nuova Prima non avevano i due colori Sì 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 Ma che belli Sama ci sono quasi Non trovi un cazzo marmo merda Mai avuto così fortuna di un universario Leggisi tutta la mia vita Allora cacchina che devo usare Io non mi ricordo mai Ok Sama ci sono Avevano il reverse color Quando vuoi Bravissima In vita pure Ciao Leo Tutto bene? Raga ho bisogno di voi Questa va male Come sta andando qua? Io non sto seguendo Ma appunto percepisco Visto che Di merda raga di merda Il culo l'ha preso tutta la cappa Mi ha rubato il culo Marmo se vai non stop Cosa cazzo deve caricare qua? Ah mamma mia Dai anto cazzo Dai dai Se vanno stop Sì sì me l'ha tenuto Non dai tempo di riposo Let's gooo Facciamoli il culo Adesso la cappa prova Goku E ci fa vedere Oggi è il cappa day It's my day Comunque hai ragione Ricky Mi sa che dopo questa Mi fermo un attimo Dai va bene Ricky Invita te allora Facciamo un po' Un po' a testa Va bene Bastardi Voi che vi divertite Con i vostri goku Io sto qua a sudare A 20.000 mi fermo Non mi interessa No dai Ma Vigitto Ma Vigitto Trunks Ti prego Trunks Ti prego Ma sono per porta loro No ha detto che è nuova unit Può essere un po' solo No Penso Mi inviti te Ricky Ecco di fatti Io in 3k ho trovato Goku, Zeki, Hawe Mi sa che non pullo più Risparmi per la Ultra Ti conviene bro Scannerizzato Va bene Leo Buona Mamma mia Che pa Ma cosa Ma Ricky Mi inviti Io O no Che sto Però ho trovato lui Che sinceramente Penso che non Che bello 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 Non lo userò Mamma neanche Per pulirmi il culo Col culo di Leo Niente È la giornata della K Oggi Oggi è il complanno Di mia nonna Con più 80 anni Fate gli auguri Alla mia nonnina Auguri alla nonna Capposa Nonna Pina Però Che ingiustizia Io ho giocato sempre Tu non hai giocato No È giusto Io non ho trovato un cazzo Per un sacco di tempo Grazie grande Quindi Cioè Dai Attenzione Il dragone Vediamo se mi porta fortuna Bello Grazie ragazzi Sì Ma vi faccio vedere Mi serve l'altro freezer Cos'è che stiamo facendo All'extreme Sei uno tosto Ricky Ma con quei personaggi Sì Difatti Dov'è che sono Goku Freezer E Jiren Ecco lo Jiren Mi chiama Diventa caldissimo Qua Mi esplode Che bello Che è bro Freezer qua Sì ci sta È fatto bene Spera Vai 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 Che lo facciamo fuori Cazzo Dai 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 Uh Barudak san Barudak san Barudak Barudak Merdak Grazie per il follow Eh adesso la facciamo l'LF Chiunque sia Grazie per il follow Non riusciamo a vederlo Adesso Sì Ma scusa Posso godermi la mia moglie Eh sì È che tu lo lasci sempre qua Poi qua Apriani Grazie per il follow Grazie Apriani No dai no Ti prendo Ti prendo Ciao Non è possibile Fai rimatch Ci sei ancora Tu Ah ok Sì Non li hai ancora trovati Adesso non c'ho Fattela e li trovi qui Vengo dal futuro Chi? Anto? Anto viene dal futuro Hai fame? Io dico che senza piccolo Non sarebbe esistito nulla Probabilmente Potrebbe anche essere vero Sì Ma mettiamo un po' Jiren Dai Ma ti vado Ma putta Ma sì Mi sta già posizionando Hai visto che c'ha la tuta rotta dietro? C'è praticamente il Jiren Prima del full power Sì 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 Cazzo Raga il momento Lo sento Che bello Jiren Ma zio Sto schiacciando qua Vedi che ho Un dream Vabbè Ah che figo Si difende Dove c'è? No Raga Ah sai cosa fanno questi Goku Bloccano il Rising Rush Mi sembra Col gouge pieno Ovviamente non arriva Oh vegeta blu Che difende Goku Raga Vuol dire Non mi è arrivata la carta Guarda che belli Si Ci sta di brutto sta carta Bellissima Fatta bene Rifai Reconfortissimo Cos'era quel blu? Ma sbaglio c'era la luce blu Tipo Vabbè Forse ho visto male io Ma fai Fai l'advanced Che devo fare le missioni Dai Bio Eh Bio Egerfoglio Ciao ragazzi La K Ha sculato Come una pazza Io no Non si vede più Perché mi sono addormentato Tranquillo È anche giusto riposare Ha seguito la live stanotte Immagino Forse Quindi Oh raga Niente 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 È pazzesco Dai Arriviamo fino a 15.000 E basta Ma no Dai Cosa vuoi che le faccio fuori A meno fino a 10.000 però Lo faccio Se ritorni a giocare Va bene Adesso vedi che le trova E c'è No vabbè tocca banarla Arriviamo a 15 E basta Sto avendo sfiga oggi Oggi non gira Magari faremo un'altra Mini pullata Ma dubito Trunks Per favore Ti prego Trunks Ti prego Ti prego Tosa Ci scommetto 100 euro Minchia Speriamo Posso vedere Posso vedere Posso vedere l'animazione Dei pg summonati Anche se sono brutti Ti facciamo vedere Goku e Freezer Se vuoi Che è carina Dopo devo far vedere La k Che io non ce li ho Animazione Sì Eh volevi giren Volevi gire Ti faccio vedere Quella di giren Oh ma basta Oh ma è la quinta volta Sette volte Ecco a te il tuo Goku Non c'è bro Non c'è Eh gli ultra Fanno animazioni I personaggi ultra Che sono ancora più rari Quante gemme hai adesso? 18.000 Minchia Ne puoi fare ancora 10 10 giri Eh ma me le son sudate Amica mia Amico mio Ogni tanto Scapita di sudare Allora Se l'ultra Allora Se l'ultra Saranno Goku e Vegeta Tag Quelli del torneo del potere Io impazzisco Dai facciamo Il rising Tieni bassa La sticella Ah eh vabbè Così non si vedrà mai Nel letto Avete vinto di nuovo? Eh sì Ha fatto il letto Ma l'hai fatta di merda apposta Se casa hai fatto bene Ciao bye bye Ho metto 100 milioni di euro Che adesso trovi la doppia copia Minchia la doppia copia Io non li ho Eh scusa mia culpa Io non li ho trovati Perciò Vabbè raga dopo Non stanno riusciti a fare Sei un bot Sì ma sono io che l'hanno fatto È la K Facciamo io te la Una PvP amichevole E mi fai vincere Facciamo vedere la Facciamo così raga Però metti l'audio Tanto io a 15 mila Mi fermo Ma dai Arriva almeno fino ai miei livelli Così ripartiamo in pari Sì ma se esce un Vegito Ultra Cosa faccio? Cazzo Io? Io cosa faccio se esce? Ah c'è 9 mila Boh non è male Ripartiamo tutte e due da 9 mila Però veramente Raga sta facendo la promessa Che Che promessa sto facendo? Che giocherai di nuovo Eh vabbè non è che ci sia Vuole quale chissà che impegno Ma infatti Eh lo so Adesso mi sono riappata Riappata Riappata? Cosa vuol dire? Grazie ragazzi Ricciapata vuol dire Ho perso quella cosa raga Non sento Cosa che non sento? Eh non sento che arrivano Mi facci Ti giuro Sarà così Oh Jiren Tutti i Jiren del mondo Non posso Ricky Se mi hai evitato non accetto Chi è che mi hai evitato? No dai Se no la devo fare poi con tutti Poi mi dispiace Cioè con chi magari vuole qualcun altro Non sento la magia Mi viene da piangere Addirittura Perché sto spendendo Volevo fermarmi ma Mi hai piegato Ma dai ma dai Ma non ci metti niente a rifar sulle gemme Cioè ma per favore Meno magna Ma che sono tre mesi che Eh adesso hai un po' di settimane Eh perché sto ginocchio? Perché c'è il ginocchio? Che male No che palle ancora Si è sconnesso Vai faccio io un ticket di qua e un ticket di là Minchia ma posso prendere mille ticket? Questo è quello che ho preso adesso vai Raga se con quattro ticket non li trovo Cioè Raga mi ha dato la richiesta a un certo Jay Kennedy Me la può accettare se sta in live Si se no scrivi Scrivi nel gruppo anche Che mi sembra che c'è nel gruppo lui Brawly Facciamo una testa? LL cazzo Brawly Raga se li ritrova veramente Non viene più in live la cappa Bannata per sempre Io li ho trovati mentre guardavo la live di One Shot Squirrel Grande Squirrel Devo chiedergli com'è andata Li ha trovati? Grande squiatolone Easy job Così ce li abbiamo Quanti stelle ce li abbiamo adesso? Sette? No? Quante? Li avevo già trovati comunque Ben due volte Questa è la terza volta Bene Grazie per avermi ricordato dei ticket Sei carinissimo Cioè meglio di così non potevo andare Qual è quell'altro ticket che dicevi? Io non ce l'ho Bene 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 E io adesso troverò la tipa Quella che ho già trovato sette volte Bravo Pino Sono d'accordo con te Bravo Devi tu essere bannato Hai avuto troppo culo Adesso te la meriti Questa Cazzo son USB Non me lo aspettavo Majinsuper Mi mancava Grazie Che skifo Oh oh dai fanno una a te che hai un po' di culo oggi no, devo farla dall'inizio adesso l'ho già fatta io no, la prossima intendevo è perché mi hai messo qua guarda che niente 8 ads ma aspetta che le disattivo adesso lo posso fare adesso mentre sono in live aia, nuova animazione ecco se mi tocchi il piomento ho la barbetta pubblicità della durex a quante mente state? due menti due, sì me rossi cosa volevi di più? me rossi è perfetto è perfetto? è perfetto dai, ancora un giro lo puoi fare se non due è lì per evitare che vediamo lo skip dai, 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 dai ma ti stai caricando? non li trovi? ma che versi fai? io ho un bisonte di fianco sono sotto, sono sotto quelli nuovi di solito toshi muovi il culo perché se no vengo lì a prenderti eh, k, eh sì, k, sto par... leo devi aggiungermi con gli amici hai bisogno del codice è questo qua tolto, taggo il marmo raga, mi sono rotto il cazzo si può dire in live però non posso averli tra gli amici si può dire in live che mi sono rotto il cazzo? c'è che tolgo, ma, Tao tanto non gioca più adesso vedi che scrive cazzo fai, k, scusa Tao scomento che scrive, guarda mi sono rotto il cazzo vegeta blu, a difendere blu 5 e mezzo di scegliere? 3 e mezza 3 e mezza mi è rincoglionito la live di stanotte di brutto anche ricordami dopo di prendermi un giacchetto ti scrivo comunque se non torna a casa in tempo si, si, si quello della palestra si, si, si allora faccio così passo dai mici prima che andiamo al cinema eh no, è cosa che sto chiedendo io se noi ci vediamo al cinema diversamente certo che voglio andare è una cosa che c'è è logico ho trovato Vados nel caso non si fosse visto il nostro testa di mici amarmo non sta avendo culo ho tutte quelle fottute mani al cielo grazie Ricky però secondo me godete ma, bastardi che non trovo niente doppia coppia grazie Ricky mani al cielo non so se c'è qualcun altro che ho tipo questo cinese qua ultima raga poi faccio la free e basta ma io in realtà non mi ricordo neanche ecco ho paura di togliere gente che pangari ah si è sconnesso il 3 cazzo 35k è da tanto che non pulli cioè è da tanto che farmi immagino scusatevi 60 70.000 60.000 questa va stippo so già che farà cagare pazzesco non mi è mai successo veramente penso che è la prima volta che non trovo il personaggio poi la seconda tipo ultima pull della giornata ragazzi hai avuto poca esperienza come ultima basta basta ma no scusami eh no 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 allora non gioco eh fai come vuoi ho diritto di cioè ho fatto fatica a farmarle mi fermo un attimo o no dai ma gioca comunque no arriva a 10 dai ma che sfiga raga però una sfigata però dai cioè ma si può va bene sto scherzando capisco io so cosa vuol dire provare questa pena ma guarda che io tifo sempre per te quando non trovi personaggi no ma io sto tifando perché sono qui sentita no no stai tifando a portarti l'energia e le vibra c'è lo verde minchia raga che male no no Riti sicuramente col culo che è oggi li trova tre volte no qui non ho voglia di spenderle sinceramente guarda questa sta bene così hai visto questa bella cazzo grande che pull pazzesca ultimo giro ultimo giren veramente ne prendi ancora uno pazzo è impazzito marmo li vuole vabbè ma guarda che resteranno ancora un po' prenditi il tempo vai per favore oh è la ter la quarta bardak animation per favore prenditi cioè ne ha trovate tre coppie Toshi tre coppie posso una io posso una coppia di gokuza per favore non ce l'ho la richiesta ah ecco ah due eh ho uno spazio cazzo Mario aveva riscattato si bene ah mi siete bene no questa l'avevo fatta eh quella di Mario bello grande vuoi un abbraccio forza arriveranno che basta ma io veramente ci credo eh spero che li trovi ti ricordi ti ricordi quando io li trovavo e tu dicevi non mi toccare non mi toccare sì perché ero molto nervosa tu li trovavi sempre tutti subito subito nonchia che fortuna oh fammi una oh il nuovo Ciampa però allora oh demi demi dai adesso sono loro dai 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 ma con loro non è L garantito scusami nooo è uno dei nuovi ah solo uno dei nuovi sì anche extreme no no sp almeno sp ok no vabbè ma quelli siamo i miei livelli di sfiga però eh porca troia cazzo che sfiga poverino no questo è proprio sono proprio livelli difficili da raggiungere ma che ti faccio ancora la prossima è finito il mio tempo su Legends è un po' di pausa dai ci vuole no dai ti faccio anche la prossima è finito il mio tempo ti lascio la free no dai 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 ti rendi conto che ho fatto tipo penso una decina di animation di Trunks e Bardak sì 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 cioè mamma mia raga siamo l'opposto gli opposti si attraggono oh fortuna io assurda è luminosfico assurdo dice Ver anche se più delle volte è lui fortunato è la free quella che fa la differenza quindi vedrai sì sì vediamo vedrai che nella free e raga oggi va così boh per carità non posso lamentarmi perché ho avuto un culo incredibile sempre ultima quindi ultima summon della live di oggi il nostro marmo affranto con la sua free dopo magari spettiamo ma dammi un po' di fortuna ti carico ti carico vai dai via last one e poi poi basta mi tengo per l'ultra se no ciao Goku va bene troverò spero tanto stanno lì dai tanto gli LL tornano sempre pull arcobaleno che cazzo è ah quella di prima ah quella di prima è solo che quando la fai tu è diversa broly bob son loro broly dai 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 son loro vegetta da pull arcobaleno con la broly animation cioè per forza loro dai dai non può esserci alternativa adesso questo cazzo comunque ti giuro ogni volta che a Legends gli dici sì tanto li troverò non mi interessa esatto te li fa trovare sempre boh vediamo non è detto ma sì cazzo cioè cos'è che è la scritta arcobaleno è una scritta così a cazzo secondo me vuol dire qualcosa no Legends di merda la prossima volta dirò subito cazzo 20 20 m andiamo grazie raga per le mani al cielo te l'avevo detto che la prima avrebbe fatto la differenza dovevo proprio arrivare scritto arcobaleno vuol dire lf garantito ok ah ok quindi come broly in pratica puttana eva vamos forse addirittura del banner si 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 boh possiamo anche chiudere adesso si non vuoi farla vedere la mossa finale facciamo una pvvp al ruolo ah vediamo la lf dai e mettiamo raga grazie a tutti grazie grazie del culo che mi avete trasmesso vai adesso facciamo la mossa finale vai ok ecco no 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 ecco 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 vedere sull'espansare però oh no oh ecco 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 per chi si è perso la live la trovate su youtube con riassunto penso già da domani la editerò al volo la metto e per chi vuole rivedersi la live la trova qui su twitch ragazzi lasciate un bel follow lasciate un bel like andate su youtube e andate su disco andate dappertutto esatto un bacio ciao ciao ragazzi grazie per il culo e le mani al cielo e chi non l'ha trovato tanti auguri forza